Calendario e orologio sono oggi i principali strumenti per misurare il passare del tempo. Il primo è un sistema adoperato per suddividere, calcolare e dare un nome ai vari periodi. È come se scandisse un tempo lineare potenzialmente illimitato. Ogni anno si sostituisce con uno in cui sono modificati i giorni che si susseguono, uno dietro l'altro, con il trascorrere delle settimane e dei mesi. Quello proposto da Maurizio Cattelan è un calendario infinito per cui è sempre oggi. Un calendario buono per tutte le stagioni e altrettanto inservibile, perché non scandisce il tempo cronologico su cui è impiantata la nostra vita sociale, ma il semplice passare del tempo. Il fatto elementare che ogni giorno è un nuovo giorno, che il tempo passa sempre uguale a se stesso, senza incidenze storiche, indifferente alle faccende umane. Un tempo quindi immobile, senza passato e senza futuro, senza memoria e senza speranza. L'altro sistema di misura è l'orologio, che con l'incedere cadenzato delle lancette definisce un movimento ciclico e teoricamente perpetuo. Se ne osserva lo spostamento, quasi ipnotico, in continuo moto, che ogni giorno riprende dallo stesso punto di partenza. Passano secondi, minuti, ore, mesi, anni. L'orologio messo in scena dal fotografo isontino Maurizio Frullani fa riflettere sul significato del tempo. Non ha le lancette, non è una misura ciclica, quantitativa. Non è il tempo che nella filosofia greca è definito kronos, ma si tratta del kairos, che, al contrario, è la qualità soggettiva ed indeterminata del tempo vissuto, nel quale qualcosa di speciale accade, il tempo delle opportunità. Altri elementi importanti di questa fotografia sono la scritta 24 ore e la celebre frase in latino ad indicare che ogni cosa ha il suo tempo e che c'è una stagione per ogni attività. Il concetto di tempo e del suo trascorrere, studiato da filosofi e scienziati, è tutt'altro che semplice, ma anche attraverso le opere d'arte e le fotografie è possibile darne un'interpretazione. Per alcuni autori diventa una sorta di pensiero ossessivo, un'idea fissa che li accompagnerà per buona parte della vita, spesso fino alla morte, con la costruzione di un diario al limite tra documentazione e analisi personale, le cui radici sono da ricercare sull'assunto che l'essere umano è l'unico animale cosciente del fatto che esiste una fine chiamata morte ed è in grado di riflettere su di essa al di là dell'evento. Tutti i lavori artistici che trattano del tempo hanno pertanto racchiuso in sé un pensiero profondo e filosofico. Onkawara è un artista concettuale giapponese noto per essere l'autore di circa 2000 tele che riportano la data del giorno in cui sono state realizzate. Tale imponente opera inizia il 4 gennaio 1966 e vede il suo inevitabile termine il 10 luglio 2014. Nelle diverse serie la data è sempre dipinta in bianco su uno sfondo monocromo e mantiene la convenzione linguistica del paese in cui l'artista si trova nel momento della realizzazione e deve essere terminata nell'arco del giorno menzionato, altrimenti distrutta. A partire dal 1966 ogni tela viene accompagnata da un articolo di giornale che ne svela il luogo di creazione e di fatti di cronaca, la contestualizza. Osservando superficialmente queste opere sembrano essere tutte simili oltre che banali e fredde, ma come spesso accade si deve andare oltre le apparenze. Ogni giorno è un giorno differente dagli altri, non tanto per la convenzione della data riportata quanto per gli accadimenti, come capita nella vita. Potenzialmente i giorni sono tutti uguali, spesso trascorsi negli stessi luoghi con le stesse persone, ma è ciò che accade che li rende unici ed irripetibili, anche nelle piccole cose quotidiane. L'osservatore inoltre può anche imbattersi in una data per lui particolare, ed ecco che l'opera si trasforma in qualcosa di personale cambiandone la percezione. Nel trovarsi di fronte all'evidenza tangibile dello scorrere dei giorni, che solo la morte può terminare, Onkawara cerca di appropriarsi dell'essenza del tempo cronologico, la cui misura è determinazione della nostra esistenza. Tali concetti sono espressi anche in altri lavori di quest'artista, che ha sempre come obiettivo, come ossessione, il desiderio di catturare e analizzare il tempo, ma anche di fermarlo con un'immagine e renderlo infinito. Un altro artista che ha studiato il fluire del tempo è il polacco Roman Opalka. Nel progetto dal titolo Opalka 1965 è uno infinito, in maniera sistematica e con un progetto ben preciso in mente, ogni giorno fino al 5 agosto 2011 ha scritto una serie consecutiva di numeri. 1965 è l'anno in cui l'artista scrive il numero 1, un numero scritto in bianco su una tela nera, ma poiché la sua ricerca tende all'infinito, sceglie ad ogni cambio di supporto di schiarire lievamente lo sfondo. Negli ultimi tre anni della sua vita le opere sono costituite da una scritta bianca su sfondo bianco, un passaggio lento e graduale, visibile analizzando le 222 tele completate in 46 anni di lavoro, che inevitabilmente terminerà. L'obiettivo era quello di arrivare al numero 7.777.777, considerando il 7 un numero dalle molteplici simbologie, ma purtroppo Opalka si è fermato prima dimostrando la finitezza, l'impossibilità di dipingere l'infinito ma rendere tangibile lo scorrere della vita. In associazione alla sistematicità dei numeri, dal 1968 aggiunge la fotografia, il ritratto del suo volto con lo stesso sfondo candido, la medesima luce abbacinante, il collo di camicia rigorosamente bianco, sempre con l'equivalente espressione, ma giorno dopo giorno la sua fisionomia si modifica inesorabilmente e viene fermata in quell'attimo dopo il quale muta. Ma poiché anche la voce cambia, dal 1972 ne aggiunge le registrazioni. Ogni volta che dipinge una sequenza e si scatta una foto, pronuncia dei numeri. In questo modo, seppur ossimoricamente con numeri, fotografie e voce che diventano un simulacro immortale, più segni e più sensi concorrono a sottolineare lo stesso concetto, l'ineluttabile approssimarsi della fine. A questo proposito trovo appropriato l'accostamento con un film del 1995, Smoke. Anche il protagonista scatta ogni giorno una fotografia. Ogni mattina, all'angolo di due strade davanti al suo negozio di sigari, posizione il trepiede e scatta, mantenendo costante l'inquadratura. Più di 4.000 immagini alle 8 del mattino, 4.000 giorni consecutivi con tutti i tipi di tempo. È il suo progetto, è quello che può essere definito il lavoro di una vita. La scena più importante del film è quella in cui il negoziante mostra i suoi album di fotografie a uno dei clienti abituali, uno scrittore, vedovo, il quale sfogliando distrattamente dice sono tutte uguali. Immediatamente la risposta è perché stai andando troppo veloce. In effetti non sono tutte uguali, ma ognuna è diversa da tutte le altre, luci differenti, giorni lavorativi e di festa. Persone distinte oppure le stesse, ma comunque differenti. Dopo il consiglio di rallentare, lo scrittore incomincia ad osservare con calma e si accorge che tra le tante persone intente nelle più svariate attività o che semplicemente passano in quel tratto di strada, spesso è presente Ellen, la moglie. Ancora emerge la relazione tra vita e morte e soprattutto la creazione di un diario visivo che sistematicamente registra il susseguirsi dei giorni, mai uguali tra loro. Sempre pensando alla fotografia, e ringrazio Dario Ceoldo per il suggerimento e la discussione in merito, è interessante conoscere il lavoro del tedesco Michael Wesley, famoso per le sue fotografie di città, edifici, paesaggi e fiori, scattate con una specifica tecnica di esposizione ultralunga, che prevede da uno a tre anni. Non sono fotocamere stenopeiche e non sono macchine fotografiche prodotte industrialmente. Tutte le componenti sono fatte a mano, ad eccezione degli obiettivi grandangolari. In queste fotografie è racchiuso passato e presente, tra i suoi lavori il progetto riguardante la documentazione dello sviluppo urbano con la ricostruzione di un'importante piazza berlinese. Anni di lavoro in corso sono stati catturati in un singolo fotogramma. È rappresentato lo spazio ed il tempo che prevede la nascita di qualcosa. Ma l'autore usa questa tecnica anche per documentare la morte, come nel caso dei fiori, che soggetti tipici della vanitas simboleggiano la caducità della vita. Come non citare Hiroshi Sugimoto, fotografo e artista giapponese, è la serie, anch'essa collegata al tempo, dedicata ai teatri, che è in essere da oltre 40 anni. Non una descrizione, bensì un approccio minimalista che diventa astrazione. Non una descrizione, ma un'interpretazione che ci parla del tempo con una doppia valenza, quello cronologico e quello dell'esposizione fotografica. L'idea è quella di racchiudere un intero film in un singolo fotogramma. Quello che ottiene puntando la macchina fotografica davanti ad uno schermo per l'intera durata dello spettacolo è un rettangolo bianco di un bianco abbacinante che diventa contenitore delle immagini che si susseguono e che vengono riassunte in una sola. Bianco, un non colore che contiene tutti i colori dello spettro elettromagnetico. Bianco che racchiude con lo scorrere delle immagini anche lo scorrere del tempo che con questo escamotage viene catturato ed il fotogramma diventa metafora raggruppando il tutto. Inoltre, catturandolo, ne modifica la percezione e dall'essere un elemento astratto ed inafferrabile lo rende oggettivo, tangibile, visibile. Anche Peter Dreher realizza un progetto interessante attraverso la pittura maniacale di un bicchiere di vetro. Tutto inizia nel 1974 e termina, ancora una volta una data inconfutabile, nel febbraio 2020. Il titolo del poderoso lavoro è Ogni giorno e ogni notte. Una natura morta minimalista, un tavolo, una parete bianca ed un bicchiere, sempre la stessa inquadratura e le stesse dimensioni, che devono essere quelle reali. L'artista dipinge a olio su tela, molti giorni e molte notti, con un bicchiere da portare a termine, sempre uguale, ma mai identico. L'ossessione della ripetizione attraverso una pittura realista per comprendere e confermare che ogni replica è unica, unica come un autoritratto, unica come i giorni che viviamo. Una pittura che diventa concettuale, evidenziando il passare del tempo, mai uguale a se stesso, ma sempre mutevole, portatore di continui cambiamenti e, come sostiene l'artista, piccoli dettagli che tradiscono la distanza tra l'impermutabile vetro del bicchiere e la temporaneità dell'esistenza umana. Ringrazio Marina Legovini per avermi fatto conoscere questo progetto. Nel corso della storia, anche gli autoritratti seriali di molti artisti, come per esempio Rembrandt piuttosto che Rosalba Carriera, sono delle rappresentazioni che mostrano come il tempo passa inesorabilmente, anche se cerchiamo di fissarlo e catturarlo attraverso un'immagine. Passa, finisce, ma comunque continua. Se avete altri autori da segnalare, sarà interessante condividere le conoscenze. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione e aspetto i vostri commenti.